Matteo Berrettini sta con Federica Lelli, ex fidanzata di ultimo. La neocoppia sarebbe già pronta al grande passo. Dopo la fine della relazione con Melissa Satta, il tennista Matteo Berrettini ha iniziato una nuova relazione con Federica Lelli. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, la relazione tra i due sta prendendo una piega seria. Tanto che la coppia sarebbe pronta ad intraprendere la convivenza presso la residenza di Berrettini. Le voci su un possibile legame romantico tra Berrettini e Lelli erano emerse già a marzo, quando erano stati avvistati insieme durante un pranzo in un locale nei pressi di Ponte Milvio, a Roma. Da allora, sembra che la loro relazione abbia fatto passi significativi, tanto da considerare l'idea di condividere lo stesso tetto. Matteo Berrettini e Federica Lelli stanno insieme. La relazione tra Matteo Berrettini e Federica Lelli sta prendendo una piega seria e concreta. Tanto che quello che inizialmente sembrava un incontro casuale a Ponte Milvio si è trasformato in una vera e propria storia d'amore, culminando con la decisione di convivere presso la residenza del tennista. È il settimanale Chi a confermare questa nuova fase della loro relazione, sottolineando che per Berrettini la convivenza con Federica potrebbe rappresentare una sorta di prova generale per il futuro insieme. Nonostante l'evidente serietà dei loro sentimenti, al momento Berrettini preferisce mantenere un profilo discreto e non vuole rendere pubblica la sua relazione con Federica Lelli. Questa riservatezza potrebbe essere motivata dalle critiche ricevute in passato per la sua relazione con Melissa Satta, che alcuni ritenevano avesse influito negativamente sul suo rendimento sportivo. Chi è Federica Lelli, ex fidanzata di Ultimo? Federica Lelli, è principalmente conosciuta per essere stata la storica fidanzata di Niccolò Moriconi, meglio noto come Ultimo. La loro relazione è durata circa due anni, terminando nel 2019. Molte delle canzoni di successo di Ultimo sono ispirate proprio alla loro storia d'amore, con particolare riferimento a brani come 22 Settembre, pubblicato il 22 Settembre 2020 come secondo estratto dall'album, Solo. Questo brano racconta di un viaggio a Londra che la coppia ha vissuto insieme, compreso un momento romantico sulla ruota panoramica. Nonostante la separazione, i due sono rimasti in buoni rapporti, tanto che Federica Lelli ha persino assistito a uno dei suoi ultimi concerti a San Siro. Attualmente, Niccolò Moriconi ha una relazione con Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Iter Parisi, ed è insieme a lei dal 2021.